ciao ragazzi oggi sono qui vi faccio vedere l'attacco qua del telefono della Manfrotto comunque è plastica ma molto resistente come potete vedere l'originale Manfrotto e niente questo qui l'attacco dietro si può aprire così ci mettete il telefono sopra rimane inclinato ecco così così sul davanti poi niente questo qui ci mettete il telefono dentro come se non riesco con la mano comunque capite che mentre il telefono c'è una bella mola che tiene il telefono tirato per bene comunque poi c'è la possibilità di metterlo sopra avvitato al suo cavalletto della Manfrotto lo mettete poi così è buono avete già un buon supporto si può usare che farlo usarlo così come come selfie selfie o video riprese quello che volete tutto abbinato così comunque niente non costa molto ho pagato 8,99 va bene senza problemi poi fate voi io vi ho dato un consiglio comunque problemi non ce ne sono poi tanto non dovete andare in giro fate così vi fate le riprese siete a posto ok ciao ciao buona giornata